E' il Dottore di Dio che faccia la tua comunità come in pieno così in terra. Ave Maria piena di grazia il Signore specchio, tu sei benedetta per le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria piena di grazia il Signore specchio, tu sei benedetta per le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Amen. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.